E' iniziata Ischia a Cerrana, è iniziato il 2023 del calcio. Simonetti zona nel centro, il tocco. Ischia che sta trovando un paio di problemi ad entrare nella gabbia della Cerrana. Ora ci prova con il cross, Simonetti non ci è arrivato, trofa. Su Matute e se ne va in accelerazione. Poi con l'esterno riesce a trovare Todisco, arretrato per il destro. Da parte di Arcello, occasione importante per la Cerrana quando intanto arriva il sinistro. Da parte di Arcamone Russo che prova ad inventare per Carannante che palleggia e scarica il destro. Mazzella mette con la punta delle dita il pallone in calcio d'angolo. La tattica dei cartellini con Trofa che va da Florio, bellissima la magia. Poi il cross con Munao che si allunga. Va a battere De Angelis. Colpo di testa di Befi, recupero però di Arcamone e Giovanni Giuseppe. Poi Trofa verso Simonetti per l'inserimento di Arcamone. Giovanni Giuseppe, Arcamone. Prova a portare subito la numerica Arcamone. Simonetti va da solo, cross ribattuto, ancora Arcamone. Munao, recupero della Cerrana per un istante perché Florio prepara il cross per Simonetti. Ovvero Giovanni Giuseppe che va da Simonetti. Sovrapposizione di Ballerano. Simonetti punta Pusone, converge sul destro. Parti il cross sul secondo palo per Davide. Trofa! E questo è un gol bellissimo dell'Ischia e va a esultare soprattutto anche Mr. Buonocore. È ricominciata Ischia a Cerrana. Che prova a colpire di testa e Simonetti pure. Rinaldi però involontariamente chiude l'1-2. Allora Simonetti può partire con Padin e Trofa. Simonetti, Padin chiama il pallone. Padin! Eccolo! Il tocco, docile, docile, da parte del Tigre Padin. Non controlla e allora Todisco a liberare Beffi che se la porta sul destro. Chiarello gli annulla il tiro. Todisco se la porta per il cross. Punta. Simonetti converge sul destro. Saltato ha finito. Simonetti va, Simonetti li prova a saltare tutti. Tunnel pure. Poi Arcamone allarga verso l'altro Arcamone. Cross al centro, Padin, controllo e destro. Cala la doppietta personale il Tigre. Botte. Se ne va il numero due. Che poi va a centrare da Pisani. Che si prova a girare. Chiuso da Chiarello. C'è il destro. Arcello che però non riesce a tenerla. Scatto di Todisco che supera di Costanzo. Todisco da solo davanti a Mazzella. Todisco, Mazzella. Su cui ci andrà Simonetti con il suo destro verso la porta di Munau. Va al cross. Il pallone resta lì. Longo si coordina. Ribattuto. Poi trofa da fuori. E infatti arriva uno. Arriva due. E arriva tre. Il direttore di gara dice che può bastare così. L'Ischia è tornata. Quattro a zero alla Cerrana. Il 2023 inizia benissimo. L'Ischia è tornata. L'Ischia è tornata. L'Ischia è tornata.